La serie La Promessa viene trasmessa in una fascia oraria protetta per i bambini. Si è sempre detto che a causa di questa fascia oraria non è possibile mostrare scene troppo intense o esplicite, soprattutto quando si tratta di scene romantiche. Non sto chiedendo scene esplicite, ma mi sembra che ci sia uno squilibrio tra scene violente e romantiche. Nel vasto panorama delle trame televisive, le faide tra personaggi sono spesso al centro dell'attenzione degli spettatori. Una di queste, che ha catturato particolarmente la mia attenzione, è quella tra Cruz e Gianna. Questa rivalità, palpabile e intensa, ha avuto origine fin dai primi momenti della loro interazione e ha dato vita a numerosi episodi carichi di tensione. Da quando la serie ha fatto il suo debutto, gli spettatori sono stati immediatamente catturati dalla palpabile tensione tra Cruz e Gianna. Questa non era la tipica rivalità o il semplice disaccordo che si vede spesso in molte trame televisive. No, c'era qualcosa di più profondo, quasi tangibile, che rendeva ogni loro interazione carica di elettricità. Nel corso della serie abbiamo visto molti personaggi entrare in conflitto tra loro per vari motivi. Incomprensioni, gelosie, divergenze di opinioni. Tuttavia, la maggior parte di questi disaccordi si risolveva nel tempo o si trasformava in una sorta di rispetto reciproco. Ma con Cruz e Gianna la storia era diversa. La loro rivalità non era un semplice battibecco o un disaccordo passeggero. Era come se avessero una storia non raccontata, un passato non rivelato che alimentava la loro ostilità. Cruz, come molti hanno notato, non è il tipo di donna che si fa mettere i piedi in testa. La sua presenza imponente, la sua voce autorevole e la sua tendenza a prendere il controllo delle situazioni la rendono una forza con cui fare i conti. Ha sempre avuto l'abitudine di essere al comando, di essere ascoltata e rispettata. Per Cruz, l'idea di essere sfidata o messa in discussione era impensabile, quasi un affronto alla sua stessa essenza. Dall'altro lato abbiamo Gianna. Con il suo spirito libero, la sua audacia e la sua indipendenza, Gianna rappresenta tutto ciò che Cruz non è. Non ha paura di dire ciò che pensa, di lottare per ciò in cui crede e di sfidare l'autorità quando ritiene sia necessario. Queste qualità, che in molti contesti sarebbero state viste come ammirevoli, sono diventate una spina nel fianco per Cruz. Ogni volta che Gianna osava sfidarla, era come se stesse sfidando l'ordine stabilito, l'equilibrio del potere. La dinamica tra Cruz e Gianna è diventata uno degli aspetti più intriganti della serie. Ogni loro interazione è carica di tensione e gli spettatori sono sempre in attesa di vedere come si svilupperà la loro relazione. Mentre la causa esatta della loro faida rimane avvolta nel mistero, una cosa è certa. La loro rivalità ha aggiunto uno strato di complessità e profondità alla trama, rendendo la storia ancora più avvincente. La serie ha offerto agli spettatori una trama avvincente e complessa e, come spesso accade con le storie che catturano l'immaginazione del pubblico, sono nate molte speculazioni e teorie. Il rapporto tra Gianna e Cruz, in particolare, ha dato vita a un fervido dibattito tra gli appassionati. Ecco alcune delle teorie più popolari e intriganti che circolano. Una delle teorie più discusse suggerisce che Gianna potrebbe essere in realtà una parente perduta di Cruz. Forse una sorella o una cugina separata da lei in giovane età a causa di circostanze tragiche o misteriose. Questo potrebbe spiegare l'intensa energia tra le due, un mix di riconoscimento subconscio e rancore represso. Un'altra teoria popolare suggerisce che Gianna e Cruz potrebbero aver condiviso un interesse amoroso in passato. Forse entrambe erano innamorate della stessa persona e questo ha portato a gelosie e incomprensioni che hanno avvelenato il loro rapporto. Questa teoria potrebbe spiegare l'intensità delle loro interazioni e la profondità del loro conflitto. Alcuni fan credono che Cruz possa detenere un segreto oscuro su Gianna, qualcosa che potrebbe rovinare la reputazione di Gianna o addirittura mettere in pericolo la sua vita. Questo segreto potrebbe essere il motivo per cui Cruz esercita un certo potere su Gianna e spiegherebbe la cautela e la paura che Gianna mostra a volte nei confronti di Cruz. Un'ultima teoria suggerisce che la faida tra Gianna e Cruz potrebbe essere il risultato di una vendetta. Forse Gianna ha fatto qualcosa in passato che ha danneggiato Cruz o viceversa e ora una delle due sta cercando vendetta. Questa teoria potrebbe spiegare l'ostilità aperta e le continue schermaglie tra le due donne. Sebbene queste teorie siano affascinanti e offrano molte possibilità narrative, personalmente rimango scettica. Le dinamiche tra i personaggi possono essere complesse e non sempre riconducibili a un singolo evento o segreto. Tuttavia è proprio questa complessità che rende il rapporto tra Gianna e Cruz così avvincente e imprevedibile. Il vero fulcro del loro conflitto, come ho già accennato, risale al primo episodio. In una scena memorabile, Gianna ha avuto l'audacia di sfidare Cruz in pubblico. Questo atto di ribellione, in un contesto in cui Cruz era abituata a essere la figura dominante, ha innescato una serie di eventi che hanno ulteriormente acuito la loro rivalità. Gianna, con la sua sfida, non solo ha messo in luce le insicurezze di Cruz, ma ha anche stabilito se stessa come una forza con cui fare i conti. La faida tra Cruz e Gianna è un esempio perfetto di come le dinamiche tra personaggi possano arricchire una trama e catturare l'attenzione degli spettatori. Mentre le speculazioni continueranno e nuovi episodi potrebbero rivelare ulteriori dettagli sulla loro relazione, una cosa è certa, la tensione tra queste due donne è destinata a rimanere uno degli aspetti più intriganti della storia. Manuel, un personaggio che inizialmente aveva catturato l'attenzione e l'interesse del pubblico, ha subito una trasformazione notevole nel corso degli episodi. All'inizio, la sua presenza nella trama era stata accolta con entusiasmo, grazie alla sua personalità carismatica e alla sua capacità di interagire con gli altri personaggi in modo significativo. Tuttavia, con il passare del tempo, la sua evoluzione ha lasciato molti spettatori perplessi e insoddisfatti. Ultimamente, Manuel sembra aver perso quella scintilla che lo rendeva unico. La sua energia, un tempo contagiosa, ora sembra essere svanita, sostituita da un'apatia che lo rende quasi irriconoscibile. Mentre gli altri personaggi continuano a evolversi e a reagire agli eventi che si svolgono intorno a loro, Manuel appare come un'ombra di se stesso, scollegato e distante. Questo cambiamento non è passato inosservato, specialmente per Iana. Il loro rapporto, un tempo solido e basato su una comprensione reciproca, ha iniziato a mostrare crepe evidenti. Iana, con la sua natura vivace e determinata, ha cercato in più occasioni di raggiungere Manuel, di riportarlo alla realtà e di ristabilire il legame che una volta condividevano. Tuttavia, la distanza emotiva di Manuel ha reso difficile, se non impossibile, ogni tentativo di riconciliazione. Molti si chiedono cosa possa aver causato questo drastico cambiamento in Manuel. Alcuni suggeriscono che possa essere il risultato di eventi traumatici non ancora rivelati, mentre altri ipotizzano che possa essere una scelta deliberata degli sceneggiatori per introdurre nuove dinamiche nella storia. Indipendentemente dalle ragioni, è innegabile che il nuovo comportamento di Manuel ha avuto un impatto significativo sulla trama e sui rapporti tra i personaggi. Mentre la storia continua a evolversi, resta da vedere se Manuel riuscirà a superare questo periodo difficile e a riconnettersi con Iana e con Gilly altri personaggi. Ciò che è certo è che il suo percorso, pieno di alti e bassi, continuerà a catturare l'attenzione e a suscitare dibattiti tra gli appassionati della serie. Grazie per esservi uniti a me oggi e spero di vedervi presto in un altro video. A presto! Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perderti le prossime anticipazioni di La Promessa.